Entro il mese di febbraio un lavoro urgente sulle riforme a costituzione ...ciripiripin cazzo ...e letterali o nei mesi successivi immediatamente nel mese di... ...ciripiripin cazzo ...di marzo la questione del lavoro, nel mese di aprile la riforma della pubblica amministrazione e nel mese di maggio quella del fisco ...ciripiripin cazzo ...immediatamente nel mese di marzo la questione del lavoro ...ciripiripin cazzo ...e io pago finalmente lo sblocco immediato e totale del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione ...ciripiripin cazzo ...el mese di aprile, quindi l'ultimo giorno utile ...con la proposta che il governo intende fare sul tema della riforma della pubblica amministrazione ...ciripiripin cazzo ...sistematica operazione di cambiamento che stiamo cercando di attuare nel nostro paese ...e che sta rispettando tutte le scadenze che ci siamo autoimposti ...ciripiripin cazzo ...ciripiripin cazzo ...caccio 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 ...caccio